Dove dovrebbe nascere la terza pista? Se mi seguite col dito, questo è l'attuale confine aeroportuale, questa è l'attuale strada provinciale 14 bis e questa è l'area oggetto di richiesta di SEA. La terza pista viene indicata qua. Cosa c'è oggi qua? Oggi qui c'è un parco di fatto naturale. La colata di cemento e asfalto, che dovrebbe far spazio alla terza pista di Malpensa, distruggerebbe il parco naturale del Ticino che passa da Lonate Pozzolo, piccolo comune confinante con lo scalo Varesino. La regione Lombardia deve decidere sull'impatto ambientale. Nel frattempo si vive e si lavora come nulla fosse. Cosa state costruendo? Sono dei capannoni. Capannoni industriali? Sì, eh. Ma per fare cosa? Sono per edifici per uso elettrico. Io lo chiedo perché qui probabilmente passerà la terza pista di Malpensa. Ah, non so niente di quelle cose lì. Costruite per poi abbattere tutto. Sai che queste case sono a rischio? Eh, la mia lo so. Io ho 43 anni che sono qui ma mi dispiace andare via. Oramai ha 100 anni quella casa qui. Quante famiglie dovrebbero andare via? Io li ho mal contati, vanno dalle 60 alle 70 famiglie e quindi comunque è un buon numero. Per costruire le due piste già esistenti nel 1999 lo Stato spese a 400 miliardi di lire di indennizi.